Il comandante della Polizia Stradale di Casale Monferrato, Lorenzo Esposito, dopo l'ultimo sopralluogo effettuato questa mattina insieme ai colleghi della squadra mobile della questuria Osta, ha consegnato alla Procura della Repubblica il rapporto informativo sulla tragedia avvenuta nel tratto dell'autostrada A26 tra i caselli di Casale Nord e Casale Sud, in provincia di Alessandria, dove è stata trovata cadavere Claudia Tolo, 37 anni. Dai primi accertamenti la donna, dopo un litigio con il marito Alfonso Caputo, avvenuto in macchina mentre si recavano in Valle d'Aosta, dove la coppia viveva, innervosita da quel diverbio avvenuto con il congiunto, è sceso dalla vettura e dopo aver percorso a piedi una decina di chilometri è stata investita da un'auto proveniente da Alessandria e diretta verso Vercelli, guidata da un Alessandrino di 67 anni. Sia il congiunto della vittima che l'Alessandrino sono ora inquisiti, il primo per concorsi in omicidio colposo. L'investitore, il quale ha dichiarato alla polizia stradale di essersi trovata la donna davanti dopo una curva, però omicidio colposo. Ma che cosa ha provocato quel diverbio così violento da causare la tragedia? L'interrogativo è ora al baglio della squadra mobile che, qualche ora dopo il ritrovamento del cadavere, ha saputo dal congiunto della vittima che stavano tornando da Poirino, in provincia di Torino, dove avevano trascorso una serata in casa di amici. L'uomo, appreso della morte della moglie, è stato colpito da un forte shock ed è attualmente ricoverato all'ospedale di Aosta in stato di osservazione. Intanto questa mattina gli uomini della polizia scientifica, nell'effettuare un controllo all'interno della vettura, dove è avvenuto il diverbio fra marito e moglie, hanno rilevato macchie di sangue. Inoltre, la polizia aspetta di sapere dai medici che le condizioni di Alfonso Caputo siano migliorate per alcune delucidazioni, ad esempio il perché aver scelto di percorrere l'autostrada a 26 e non l'A5 che da Torino porta ad Ivrea e poi ad Aosta, dove la coppia è residente. Un tragitto molto più breve. Infine resta da chiarire se si sia trattato di un incidente oppure di un suicidio. La salma della donna che si trova nella camera mortuare dell'ospedale Casale Monferrato potrebbe essere sottoposta da autopsia su disposizione della magistratura.